ciao ragazzi bentornati in questo nuovissimo video da nabboroi allora questa è la solita challenge nabboroi per chi non ci conoscesse o chi non sapesse di cosa tratta questa challenge la challenge consiste nel giocare con dei follower presi a caso a turno tra chi ci seguo mette like si iscrive al canale e se facciamo vittoria reale a chi ha fatto più chi le regaliamo un o il pass battaglia che non ce l'ha oppure una skin in più ci aggiunge un'altra challenge sempre nabboroi durante il video diremo una per vedere quanti di voi ci seguono diremo una parola chi la scrive nei commenti ovviamente non quelli che hanno partecipato al video perché lo sanno già vinceranno vinceranno un balletto ok mi manderanno l'amicizia e vinceranno un balletto iniziamo con la partita siamo con antonio giazzetta e risasso e marcio ciao ragazzi ciao ciao ragazzi allora mi raccomando che nabboroi non è che sia il massimo del giocatore questo bisogna imparare a gestire l'ansia bisogna vincere se avete visto l'altro video nabboroi è riuscito a fare una vittoria reale da solo anzi ieri ne ho fatto un'altra non ho capito come ho fatto perché non ho fatto niente se di colpo mi hanno dato la vittoria reale non lo so noi eravamo già tutti in zona e mi sa che uno è morto così forse ha preso danno da caduta ho danno da caduta ho crashato e ho vinto senza saperlo come ho scelto per qualcuno vieni grazie anche se sta challenge io gioco di squadra ma tanto alla fine bisogna prima di tutto vincere bisogna prima fare vittoria reale quindi io bisogna andare a prendermi andare sulle zipline per prendermi un attimo di luce poi torno grazie mamma non c'è nessuno qua no di solito quando scendo io c'è sempre un sacco di gente sta largando io io cerco di venire da voi oddio sta largando poi io non lo so non me lo posso non me lo devo andare a parte tranquilla ottimo perfetto ce la puoi fare vittoria assicura vittoria assicura con 200 di ping un numero essenziale per vincere ci vuole almeno 200 di ping non so come avremmo fatto ci vuole almeno 200 di ping ci vogliono per poter fare una bella vittoria reale che bella xp qua che ragazzi però cerchiamo di stare vicino non siete spariti una borota solo solente io sto io mi sto facendo math più se altro non ho materiale voi da solito andate a finire ragazzi mamma no ragazzi devo dammi dire va bene cerchi di venirvi da voi si no io sto solo facendo un po' di materiali che là dove siamo andati non c'erano armi c'erano materiali quindi ti costringe a venire qua non so dopo devi farti sempre la tattica per venire eh si però cerchiamo di non stare troppo distante perché pure se ci vogliamo aiutare è impossibile poi a quel punto si è più una cosa per movimentare il gioco di squadra solo che siamo io e Marci insieme che ci fermiamo a mi è uscita una sfida dice usa le fenditure che vuole dire usa le fenditure? ma qualcuno mi spiega perché Marci non parla e mi sai che non c'è il microfono? ah non ce l'ha eh mi sai no ma non hanno ve lo dico non hanno buttato qua perché c'è sento sparare? non sta ancora sto venendo alla Stark da voi però sto vedo è pieno di armi qua si però sta arrivando gente secondo me una cosa abbastanza brutta è che per il quale siamo venuti qua perché sarà tutto un problema quando ci prenderemo le uccisioni usando le cose di un potere di Iron Man ma ok io sto laggando ok ve lo dico subito sto laggando sto laggando 500 ma qua siamo fuori safe vabbè andiamo grazie per lo scudone ma c'è ragazzi ma avvertitemi dove andate io sto giocando da solo mi sta prendendo la safe a me ma c'è il pomino che mi invita mentre sta giocando e non so che sto giocando io no infatti dopo entrare nel suo gruppo nel caso sto fuori safe alla fine ormai è da un mesetto che gioco con lui perché alla fine giochiamo sempre all'arena anche senza che fa il video di solito di sabato e di domenica giochiamo insieme abbiamo giocato anche insieme in torneo e abbiamo giocato il torneo in live insieme e si lui fa i tornei siamo qua con la barca player? e si c'è un po' di player eh ah io sono solo eh ma questi se ne vanno hanno capito che facciamo la challenge? che è? l'ho messato tutti i colpi non l'ho preso per niente nooo sono scappati erano occhi ingrati eh si perché se ne stanno andando quindi evidentemente avevano paura di si è che hanno visto che ce la stavano molto meglio di loro attenzione sono là dietro ecco uno vado nel cespuglio si ecco un po' più ah attenzione ti vedo uno? si si uno che ha una film intanto Marsh penso Marsh ancora non li vedo io non so perché una cosa cerchiamo di stare un po' più vicini ok si siamo tutti attaccati a parte il blu si il blu muore di zona ah ghiazzetta Antonio quanto quanta vita hai eroi? 75 ok no se no ti è arrivato delle bande no no ce ne ho quattro bande ce le ho sei già se non posso darti perché alla fine sei già 65 sparano? forse non lo so eh si? sparano si 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 sparano anche se io non sto vicino a voi voglio venire ma non so con quale mezzo la macchina uno è senza scilla e uno è morto? sono ovest 258 gradi 28 di scilla un altro ed è scappato mamma quanto andate veloci ragazzi io riflessi un vecchietto c'ho un po' di anni non riesco a seguirvi tanto allora eccolo qua 22 e uno è senza scilla? quello che sparano tutti è senza scilla morto? no non hai detto la scilla non vuoi andare ma già l'avete ammazzati? io tranquillo sta arrivando la scilla ma prima me dobbiamo andare anche un po' meno aggressivi perché altrimenti rischia di non vincere il game eh si tanto non bisogna essere aggressivi l'altra volta uno ha vinto la challenge con sopra di me ah io muoio sono fuori di prima eh 105 e uno ah io muoio è da dietro di me morto morto bianco bianco morto io muoio se adesso non mi resta io muoio mi potete restare restalo restalo resta grazie ah ma era Antonio io stavo sparando ma che ciuccio io stavo sparando Antonio ma che ciuccio io stavo sparando Antonio che ha delle pillo ok scappiamo scappiamo io ho due io ho tre e gli altri non so c'hai qualche benda? ma io credo che abbiamo solo io le pillo perché tutti gli altri non ne tengono le pillo ce la facciamo eh Roi mi sto facendo un po' di benda io se no mi sparano mo no sto laggando sto laggando copio mi sa non hai città chi non hai città la città non hai città non hai città non hai città non hai città non ho proprio vita non ho io ho poca vita mo eh io ho 33 di vita Sono ancora in zona, fuori zona io Chi è? Chi è? Chi è? Si è nascosto nel cespuglio, attento, attento Attento, sei nel cespuglio Dove sono io? Eccolo No, è davanti, è qua Ok, dai Ressa, vai Quanti pilli hai? Cinque Io tre Tre? E chi ha più filo allora? Allora siamo pari Prendimi la scheda, prendi Siamo pari, io e lui Prendi le schede È dura sto game, però È molto duro Ok, prendo la scheda Io gliel'ho presa Così, quasi vado a restarmi Gli vado a restare Vai cercare di andare State vicini però O perlomeno Fate una cosa, se il sasso va avanti Sì, sì Io sto avanti, ho bisogno per avanti Stienimi le spalle tu Eh sì Allora fai mentre Però avviso se ci sono player Perché se no non ci si capisce più niente Allora, otto sono rimasti Sono rimasti in otto Quindi Ressa è abbastanza larga Potresti riuscire a restarci Secondo me Sì sì, ma io vado Ho bisogno di una mano Eeeh C'è Antonio coprici Allora ci possiamo fare Ok, io con la pistoletta sto, eh Ok, andiamo, andiamo Tieni, tieni Tiro un'arma Ho 4.000 Ok Ok Si trova qualcosa Qualche cildino Qualche cosa Ormai sembra più tra me Ancho la sfida E' il cilio di corte dei metri Non è vero Non è vero Ma questo che è quello che ha scadato No Non è vero Che l'ho killato Ma ci vede player No, non sono player E' una Biffy Che non c'è più Ma ragazzi Quanto mi dovevi fare di dare oggi Con le voci di sottofondo Sento sparare Io ce l'ho Ma ci non andata solo Ci muori Sono più player Rimaniamo vicini Tanto siamo in 4 2 ne sono 9 Noi siamo 4 Quindi Significa che loro sono solo 2 Non capisci niente Vittoria reale L'abbiamo fatta Quattro Quattro Allora dobbiamo fare lo spareggio Abbiamo 4 Quattro Allora ragazzi Facciamo una cosa Ora faremo un altro video Per lo spareggio Intanto Antonio Di una parola Che i ragazzi Devono la password Che devono scrivere Nei commenti Vai Di una parola Non ho capito Una parola Una parola Una parola Che i ragazzi Devono mettere nei commenti Per vincere un balletto Eh Devono mettere la parola Cuore Cuore Ok ragazzi Allora Dovete inserire la parola Cuore Dentro Per Per fare Per vincere un balletto Ok Scrivetelo giù nei commenti Mettetevi tanti like Iscrivetevi al canale Ciao